Mi è piaciuto tutto, mi è piaciuto il gruppo, mi è piaciuto l'energia che si sentiva durante i seminari, mi è piaciuto il lavoro, mi è piaciuto il divertimento, tutto. Lo consiglierei perché è un'esperienza da fare, è qualcosa che se non la provi non riesci a capire quanto può essere intensa e quanto può essere utile, per cui l'unica è sperimentale. Mi porta a casa un gran senso di espansione, una grande leggerezza, mi porta a casa i sogni, quello che ho dentro ma che di solito è ben nascosto. Qua è emerso, ho sciolto e liberato di tutto, paure, credenze, pensieri, retropensieri, l'elenco è lungo, l'elenco è lungo. Ciao Patrizia, grazie di tutto, grazie soprattutto del tuo esempio e di tutta l'energia, la carica che trasmetti quando lavori con noi.